Pescara e Rottona furono una tappa per l'andata a Brindisi, come è noto, e quindi segna un momento decisivo della storia d'Italia, quello in cui crollò lo Stato italiano e poi l'inizio di una lenta, difficilissima ricostruzione, in cui però qualcosa andò perso, io credo, andò perso il sentimento della patria, dell'appartenenza collettiva, della solidarietà e della fraternità anche che l'appartenenza collettiva implica. E poi c'è stata una lenta ricostruzione e ripresa negli anni più recenti, direi, a partire dalla presidenza Ciampi.